Bene, ciao, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Eccoci in diretta come ogni martedì, questa sera è il 14 maggio e sono le 20. Iniziamo subito ricordandoci del pranzo che ormai faremo prossimamente il prossimo 25 maggio. Saremo tutti quanti insieme a Rimini, ve lo ricordo nuovamente per chi ancora non si sia iscritto o comunque sia ancora lì a pensare a questa cosa, saremo a Rimini sul lungomare sabato 25 maggio. Per chi vuole fermarsi perché magari arriva da lontano c'è anche un hotel convenzionato tra virgolette con noi e quindi c'è la possibilità di fermarsi e per avere ulteriori informazioni vogliate scrivere a pranzo-associazionemaggiolina.it Ci sarà Aldo che risponderà con tutte le informazioni che desiderate. Mi raccomando, partecipate numerosi, siamo già in tanti a dire la verità, ma siccome solitamente dopo aver fatto questo evento c'è sempre qualcuno che dice ma non lo sapevo, mi sarebbe piaciuto venire, eccetera, eccetera, spargete la voce anche tra di voi e ricordatevi che questo è il momento per farlo. Speriamo che ci sia bel tempo, mancano ancora una quindicina di giorni per cui abbiamo tutta la possibilità. Bene, questa sera vorrei fare un po' di domande e risposte, per cui risponderò intanto ad alcune domande che mi avete fatto, qualcun'altra se volete potete mandarla in chat così ne approfittiamo per rispondere. Ok, vedo che qualcuno mi dice si vede un po' sfocato, dipende un po' dalla linea telefonica, mia e vostra, che magari fluttuo un po'. Generalmente muovendo la freccia del mouse sull'immagine, in basso a destra del video appare un ingranaggio, una rotella, mi piace chiamarla a me, cliccando su quella rotella lì e scegliendo 480p si permette, si obbliga il vostro computer a riprodurre il video a una risoluzione un po' più bassa, ma comunque stabile, quindi bene a fuoco, perché noi trasmettiamo in alta risoluzione, perché magari qualcuno ci guarda sulla televisione o su dispositivi un po' grandi e quindi abbiamo piacere di essere a fuoco. Bene, e fin qua ci siamo. Intanto saluto i nuovi arrivati e saluto chi ha voluto già fare la super chat in partenza, grazie, per noi è importantissimo. Ok, torno sulla home di Maggiolina e volevo rispondere a un paio di domande che mi avete fatto in precedenza, in attesa che voi mi scriviate qualcosa d'altro. Beh, approfitto subito per rispondere alla chat qui ad Arancina, che dice Daniele, il pacchetto Office si può scaricare gratuitamente o è solo a pagamento? Office è a pagamento. C'è la possibilità di scaricare qualche versione vecchia di Office gratuitamente, ma solo per 30 giorni, oppure trafficando un po' si può posticipare un po' questa data, ma non ha senso. Se dobbiamo metterci ad utilizzare il pacchetto Office, quindi Word, Excel, Access, adesso c'è il nuovo corso di Access, eccetera, eccetera, o ne abbiamo piena disponibilità, scaricare versioni che poi dopo un mese smettono di funzionare o hanno funzionalità ridotta, non ha senso. A quel punto meglio buttarsi su LibreOffice oppure OpenOffice, che fanno quasi tutto, cioè hanno gli stessi programmi, le stesse funzionalità, forse il pacchetto Office per certi versi è più avanti perché è molto utilizzato, ma con gli altri si può fare praticamente tutto. E quindi questo può essere un senso. Oscar mi chiede, Windows 10, quando è previsto l'aggiornamento? L'aggiornamento è previsto intorno al 14 maggio, quindi in teoria a partire da oggi dovremmo cominciare a ricevere questi aggiornamenti. Io spero di riceverlo il più in là possibile, spero che faccia un'esperienza sul computer di altre persone e poi staremo a vedere. Vedo Franca che mi dice, oggi hanno parlato di Whatsapp, di aggiornata per sicurezza, ho sentito parlare di qualche problema di virus legato a Whatsapp, ma quello basta aggiornarlo sul nostro cellulare e saremo a posto così. Almeno questo è quello che ho sentito. Bene. Allora, rispondo a un paio di domande che ho qui, ed erano queste. Una domanda che ho visto che su internet, sul web, si fa abbastanza spesso, è questa. Ok, avevo ricevuto un'email perché ho il programma di posta elettronica aperto e quindi mi arriva la notifica. Devo gettare via un computer. Ho un computer vecchio, lo voglio buttare via. Come faccio ad essere sicuro che sia completamente vuoto? Come faccio a vuotarlo? Allora, la sicurezza assoluta non ce l'abbiamo mai. Se non che lo trituriamo in tanti pezzettini microscopici, la certezza assoluta non c'è mai. Generalmente se lo si butta via è perché neanche funziona più. Però se funziona ancora, basta accenderlo e formattarlo. È chiaro che magari non è facilissimo per tutti formattarlo. Basta accenderlo e cancellare i dati che ci sono dentro. Basta dargli 4-5 martellate giuste in modo che si rompa per capirci. Poi se dovessero andare in mano a qualche professionista perché bisogna assolutamente recuperare le informazioni tenute all'interno di quel computer lì, ovviamente allora non si è mai sicuri, a meno che proprio non si sia fatto in tanti piccoli coriandoli. Ma generalmente basta buttarlo via e stop. Darkmaster130 mi dice Puoi spiegare come fare un backup dei driver? Lo abbiamo fatto appositamente in un video, lo trovi proprio recente. Adesso qualcuno gentilmente dalla chat andrà a recuperare il numero di quel video. Anzi ci andiamo insieme noi così ne approfittiamo anche per vedere queste cose. Allora io sono nel sito Amici Maggiolina. Ho bisogno di recuperare un video che abbiamo trasmesso di recente, che ho pubblicato di recente. Quindi proprio perché l'ho pubblicato di recente, qui a maggio, posso andare nel sito Maggiolina, che io ho alle mie spalle, andare sul calendario dei video 2019. Eccolo che arriva. Siamo a maggio, siamo già nel mese di maggio. Faccio scorrere ed è questo. Il 137, aggiornamento Windows 10 ed è il 6 maggio. Per cui lo trovi proprio, abbiamo proprio parlato di questo. Ah ecco, vedo che l'hai visto anche tu. Per quanto riguarda invece Windows 7, e questa domanda mi fa venire in mente questo discorso qua. In molti, avendo visto questo video che serve per salvare i driver del computer, e vi raccomando di farlo se avete Windows 10 perché ne vale assolutamente la pena, ci vogliono 5 minuti, ma vi mettete al sicuro da pasticci vari e interventi del tecnico in caso di difficoltà. Dicevo, molti mi chiedono, ma e per Windows 7 come si fa a fare per Windows 7? Windows 7 non ha bisogno di questa cosa. Certo, un salvataggio dei driver sarebbe sempre utile, ovviamente. Però non subisce più ormai questo genere di aggiornamenti. Questa esigenza qui nasce con Windows 10 perché ci aggiornano il sistema operativo all'interno del nostro computer. Prima era qualche aggiornamento antivirus, poca cosa non influiva sui nostri driver. Per cui chi ha Windows 7 continui tranquillamente ad utilizzarlo così che non ci sono problemi, in sostanza. Bene, poi altra domanda che mi si faceva sempre via email è quella sui dischi SSD. Ho sentito dire che sul disco SSD non c'è bisogno di fare la defraumentazione perché si danneggia. Non so dire se il disco SSD si danneggi in caso di defraumentazione. Certo, non ha tanto senso farla perché il disco è veramente molto, molto, molto veloce. La defraumentazione fa questa cosa. Defraumentare significa mettere insieme i vari frammenti. In definitiva, quando il computer scrive sul disco delle informazioni, va a riempire tutti gli spazi vuoti. E se un'informazione non ci sta nei primi spazi luopi, nei primi spazi vuoti la frammenta e la mette da qualche altra parte, nel primo spazio vuoto disponibile, per cui magari in due posizioni del disco diverse. Per andare a leggere quell'informazione il disco deve fare del lavoro in più, perché deve mettere insieme i due pezzi. E quindi abbiamo un rallentamento di funzionamento del nostro computer. Con i nuovi dischi SSD la lettura è talmente veloce che non c'è bisogno di fare la defraumentazione. Quindi cade questo discorso qui. Poi, un'altra domanda interessante, di cui volevo approfondire un po' questa sera. Intanto saluto Paolo, che dice anche per me la prima live, per cui benvenuto Paolo, tutti i martedì sera siamo in diretta. Dicevo questo, mi chiedono che cos'è Hangout e Jamboard, ammesso che si pronunci così. Allora, Hangout è un modo di conversare, di fare videoconferenza con altre persone. Lo Skype di Google, per capirci. Skype è di Microsoft e quindi permette di conversare e Hangout permette di farlo attraverso Google, quindi telefonini, computer, insomma, c'è un po' di integrazione in questa cosa. Grazie Franca per l'uso della Super Chat, per noi è importantissimo. Saluto anche Joe, che è alla prima live, bello essere in tanti e avere anche persone nuove. E quindi questo Hangout serve per fare videoconferenza. Non mi vedete mai usarlo, perché preferisco utilizzare Zoom, che è un programma di videoconferenza americano, che è quello che utilizziamo per il nostro bar due chiacchiere qui, dove è il bar due chiacchiere in conferenza, al quale si può accedere e fare conversazione con altri utenti come noi e risolvere un po' di problemi, perché lì riusciamo a vederci in faccia, riusciamo a parlarci, riusciamo a vedere i reciproci computer, e quindi a lavorarci ed è molto comodo. Grazie Enzo, grazie infinite per l'uso della Super Chat. Oppure la conferenza del mercoledì sera, vi invito tutti gli amici di Maggiolina, che entrano nel sito Maggiolina, il mercoledì sera alle 21.30, siamo in videoconferenza, e anche lì parliamo, però a tu per tu ci vediamo di queste cose, proviamo a fare cose sul computer, ed è una live, tra virgolette, un po' più personale, perché ci vediamo direttamente e possiamo fare più cose, siamo anche in meno, ovviamente. Ok, allora, e quindi io utilizzo questo Zoom, per cui Hangout non lo uso molto, l'ho usato qualche volta, ma per quello che piace fare a me, preferisco utilizzare questo Zoom, poi in definitiva si utilizza più volentieri, piace di più quello che si sa utilizzare meglio, io questo lo uso da tanto tempo, e quindi ormai sono lì in sostanza, però magari faremo un video anche su Hangout. Mentre invece questo Jamboard, è una cosa di cui si sente parlare poco, vogliamo renderci conto, qualcuno lo sa, lo ha già usato, se magari lo ha fatto, magari lo scriva in chat, perché così ne approfittiamo per parlarne. Allora, Antonio dice, serve e come si fa la defragmentazione su Windows 10? Poi magari vediamo di farlo, Antonio, teniamoci in mente questa domanda, c'è un video che ne parla, anche se magari non di Windows 10. Ok. Mentre invece Davidino dice, l'SSD si defragmenta da solo, è diverso da dischi meccanici, e non va disattivata con Windows 10. Di nuovo, grazie Franca per l'uso della Super Chat, grazie infinite. Allora, questo Jamboard, spero di pronunciarlo bene, ho aperto qui un'altra scheda di Windows, per mostrare, un'altra scheda del mio browser, con un video di YouTube, per mostrare di cosa si tratta. Questo è quello che ho cercato in YouTube, Google Jamboard, e c'è un video proprio di Google, perché questo Jamboard è di Google, e che ve la presenta, ve la presenta in inglese, ovviamente, ma si riesce a capire di cosa si tratta, per cui vi invito a guardarlo. Grazie Aldo per l'uso della Super Chat, grazie infinite. Per noi è importantissimo. Io ho fermato il video qui, poi chi vuole se lo guarderà per rendersi conto. Allora, questo è l'oggetto Jamboard, questo affare qui, è una specie di televisione, per capirci. Lo scopo è di avere una lavagna, una lavagna sulla quale scrivere, con le dita, con un appennino opposta, sul quale mettere foto, sul quale fare varie cose. Per cui, in definitiva, questa sembra una televisione, avrà una telecamera, qualcosa, e ci si scrive sopra. Vabbè, e allora, perché non scrivere direttamente su una lavagna vera, una lavagnetta? Cosa c'è di diverso? Il diverso di questa cosa qui, è che si collega a internet. Per cui, questo è l'oggetto Jamboard, però in realtà, questo Jamboard è anche un software che ci permette di condividere una lavagna insieme. Quindi, io adesso potrei aprire un Jamboard, qui su YouTube, mentre siamo in diretta, e avere una lavagna sulla quale disegnare, scrivere cose, che voi poi potreste vedere a casa, sui vostri computer, sui vostri telefonini, sui vostri tablet, ovunque noi siamo. per cui questo televisore, questa lavagna multimediale che vendono, serve per una sala riunioni, serve così per essere insieme, ma serve per mettersi in contatto con tante altre persone. Per cui, questa cosa è utile per fare riunioni, anche non in presenza. sapete che ormai, come stiamo facendo adesso, o come facciamo il mercoledì sera, ci si può riunire anche da più parti del mondo, e quindi questo è uno strumento in più per fare lezioni, per fare conferenze, per fare riunioni. E devo dire che è molto simpatico da utilizzare, e adesso ci proviamo a fare questa cosa. Vedo il messaggio di Franca, Franca, non preoccuparti, va benissimo, per noi va benissimo, o poi magari domani in conferenza vediamo dove è l'inghippo e che non ti trovi a fare quella cosa. Allora, questa cosa che io faccio adesso la possiamo fare tutti, per cui se qualcuno vuole provare, poi ci ragioniamo e lo vediamo in diretta. Facciamo questo esperimento, ok? Quindi io apro una nuova scheda del mio browser, perché vado, sono su Google, non ho questa lavagna multimediale, ma ho il telefonino, o il tablet o il computer. Quindi comincio dal computer. Sono loggato col mio Google, cosa fondamentale, perché questo Jamboard è un servizio di Google, per cui come sempre i servizi di Google c'è bisogno che siano loggati tra loro. Vedo la domanda di MyTuner che dice è strano, lo fa? Ah, ok, però magari non è per me e quindi siamo d'accordo. Grazie Ettore per l'uso della Super Chat. Bene, dicevo, allora, siamo loggati, ok? Vado sui quadratini dove ci sono le app di Google, grazie Roberto, grazie infinite per l'uso della Super Chat. Premo e facendo scorrere tra le varie app che abbiamo a disposizione di Google troviamo anche questo Jamboard. Lo clicco e si aprirà questo servizio. Io ci sono venuto prima per fare delle prove e ho aperto già una lavagna a smaggiolina di prove tecniche. Questo più serve per crearne una nuova. Ma questa è la mia app, la mia lavagna a smaggiolina di prove tecniche. se io volessi fare questa cosa anche sul telefonino mi basta col mio telefonino andare e installare l'applicazione Jamboard. La trovate proprio scritta così, si va nel Play Store, si iscrive Google Jamboard e poi si installa, ci impiega un po', non perché occupi particolarmente spazio, ma perché probabilmente sul telefonino ci vuole un po' ad installarla e dopodiché c'è. Chiaramente come lavagna il telefonino è un po' piccolino, però si riesce comunque a partecipare a questa lezione e lavorarci. Se qualcuno lo vuole fare poi magari in chat me lo scrive e la utilizziamo insieme. Ora io parto e faccio vedere di cosa si tratta e ci siamo. Ok, quindi io apro questa mia lavagna di app Maggiolina, eccola qua, prove tecniche, il nome gliel'ho dato io semplicemente cliccando qui e scrivendo il nome, ora lascio questo per cui dico a nulla e ho questo foglio sul quale io posso scrivere, per cui posso prendere la mia penna, posso prendere un colore e disegnare qualcosa. ora il mio computer risponde con un po' di ritardo perché sto trasmettendo in diretta e quindi è un po' lento, lo sapete ormai com'è il mio computer. Quindi io ho disegnato qualcosa, ho disegnato qualcosa ma potrei anche scrivere qualcosa oppure anche fare delle forme, vediamo se riesco a fare qualcosa. Provo a tenere premuto qua, ah questa è una nota adesiva, allora qui scriviamo come se fosse un post-it, un post-it lo facciamo azzurro, benvenuti, benvenuti, nella live as maggiolina e lo appiccico alla mia lavagna, questo lo chiudo, eccolo qua, questo è il mio post-it che io posso anche spostare, devo prendermi la freccina e posso anche spostarlo da un'altra parte, posso anche ingrandirlo un po', posso anche ruotarlo un po' se voglio e metterlo, ok, lo mettiamo così e qui poi potrei scrivere qualcosa, ah no, questa è la nota adesiva, sì, potrei scrivere qualcosa, disegnare, eccetera, eccetera. Devo dire che i comandi che noi abbiamo a disposizione cambiano a seconda che io utilizzi il computer o a seconda che io utilizzi il tablet o utilizzi un cellulare o utilizzi un altro cellulare ancora, per cui è molto interessante, posso anche utilizzare, mettere un'immagine sulla mia lavagnetta che posso andare a prendere da qualche altra parte, allora vado in foto vediamo cosa ho qui, prendiamo questa, questa immagine qui che mi piace, la attivo e poi dico select e la metto sul mio jumpboard, ora il mio computer la carica speriamo di non rallentarci troppo, mi vedete un po' sfocato perché il mio computer ha fatto un po' di fatica e anche questa immagine qui la mettiamo qua, mi piace ruotarle, quindi ruotiamo, vediamo dai tre pallini cosa si può fare, duplica o elimina, ok, la teniamo qua, bene, di qua posso aggiungere un foglio per cui aggiungere un'altra pagina posso cambiare lo sfondo facciamolo blu questo e poi posso andare a scriverci con un colore diverso, posso cambiare penna mettere il pennello vediamo se questo è un po' più grande però questo qui è un po' più grande ma è semitrasparente ci sarà una qualche regolazione da fare allora proviamo questa penna qui ecco questo qui è un po' un po' più grande cambia il tipo di punta vedete da come gira cambia il tipo di punta forse tipo un gesso o qualcosa del genere va bene quindi due pagine eccoci qua ok il bello di questa cosa è che io posso essere altrove per cui qualcuno può avere scaricato la app Jamboard sul proprio telefonino o sul proprio tablet oppure può aver fatto come me avere aperto un'altra scheda ed essere andato sulle applicazioni e può andare a vedere questa lavagna sempre che io la condivida con lui per questo dico fatemelo sapere perché io posso condividere posso dire alle persone unitevi a questa conferenza e facciamo lezione insieme parliamone insieme per cui ho questo Jamboard sul mio schermo aspettate che vado a cambiare anche un'impostazione in modo che possa vedere quello che trasmetto eccomi qua quindi io ho qui il mio telefonino ho aperto Jamboard ora non si vede ma si vede io ho qui la stessa lavagna che avete voi si è unito rubino felino e ora se rubino felino prende uno strumento e disegna un cerchio colorato sulla lavagna io l'ho disegnata sul mio sul mio telefonino e lo vedo nel mio computer ora disegno un altro cerchio di un colore diverso per cui io sono qui col mio telefonino questa volta lo faccio giallo disegno un altro cerchio eccolo qua io l'ho disegnato male e poi il mio Jamboard qui lo riconosce come cerchio e me lo mostra migliore adesso in questo caso l'ho disegnato proprio male tanto che lui non lo riconosce proviamo a farne un altro eccolo qua questo è venuto meglio ora apparirà anche sul mio computer per cui ovunque noi siamo nel mondo se siamo collegati con questa lavagna con qualche strumento possiamo insieme lavorare allora vedo Nicola che mi dice ciao Daniele vorrei condividere la tua lavagna Nicola io ho bisogno del tuo indirizzo di gmail per cui se scrivi in chat consapevole del fatto che lo vedono tutti però il tuo indirizzo gmail non la password solo l'indirizzo gmail io ti posso condividere la lavagna e tu potrai agire sulla nostra lavagna in modo che si possa fare vedo Sergio che dice ma il pc mi dice di non avere nessuna Jam ma l'app c'è devi fare come me andare qui Sergio andare in Google pagina principale di Google quadratini fare scorrere e aprire Jamboard questo qua ah ok adesso ho capito quello che mi dice quello che mi dice Sergio dice ma l'app c'è ma io non non ho nessuna Jam certo Sergio perché anche tu devi essere aggregato nel gruppo cioè mi devi mandare la tua email ok vediamo che Nicola ha mandato la sua email quindi io vado su condividi e decido di condividere con allora condiviso con Rubino Felino metto ora Nicola per cui scrivo la sua email eccola qua è uscita già subito però deve essere quella giusta ok se io lascio la matita anche lui potrà disegnare se invece cambio e metto solo il può visualizzare può solo vedere quello che io scrivo dico invia fine e in teoria ora Nicola da qualche parte dovresti ricevere un'email sulla tua Gmail o sul tuo Jamboard e puoi unirti a noi Arancina certo che puoi aggiungerti manda la tua la tua email vedo intanto l'email di Sergio proviamo ad aggiungere anche lui allora devo scriverlo bene mi pare che sia giusto invio quindi Nicola Sergio sono unite proviamo anche riservato per Windows eccolo qua e aggiungo bene tutti quanti mettiamo anche Arancina poi vediamo di fare qualcosa ok devo scriverli giusti devo essere certo di averli scritti giusti perfetto fine ora voi dovreste aver ricevuto un'email provate ad andare a cliccare ed ecco qua 100% Windows si è unito per cui anche lui adesso può partecipare ed agire lavorare insieme su questa lavagna io intanto desidero spostare questi due cerchi che non ho fatto io l'ho fatto l'altro telefonino cioè l'ho fatto io con il telefonino e quindi ognuno di noi può andare a modificare la lavagna quindi possiamo fare una conferenza possiamo chiacchierare possiamo spiegarci delle cose anche con l'ausilio dei disegni e chiaramente magari si fa proprio la videoconferenza ci si parla e ci si sente ci si vede e intanto si disegna eccetera eccetera allora sì devi loggarti Nicola devi essere loggato con Google sempre che io non abbia sbagliato a scrivere la tua email prova devi essere certo di esserti loggato ciao Giancarlo e grazie per l'uso della super chat vedo i primi disegni vedete le mie mani sono qui qualcuno sta disegnando e quindi vediamo dei nuovi disegni datevi da fare disegnate qualcosa cambiate colore provate un po' di strumenti in teoria noi in questo momento stiamo vedendo qui in piccolino qualcuno che sta disegnando e vediamo che è Sergio in questo caso perché l'iconcina è quella di Sergio e infatti lui sta scrivendo ciao Sergio allora Arancina dice a me è arrivata la notifica benissimo Arancina ed eccola qua che si è unita per cui vedete che io non sto facendo niente abbiamo messo in piedi questa lavagna e ognuno va a lavorarci può essere condivisa nell'utilizzo ma può anche essere condivisa solo visivamente se io volessi spiegare qualcosa dovrei sarebbe solo visiva quindi potrei non farvi lavorare sopra ma mi fa piacere allora Nicola dice con Google sono logato io lo vedo dalla mia immagine su Jamboard allora Sergio dice sono un po' fuori sono un po' in difficoltà a scrivere col mouse certo con il mouse è più difficile scrivere ti faccio notare Sergio se premo quella è la nota adesiva invece con il telefonino c'è una funzione proprio perché dicevo che con i diversi strumenti si hanno funzioni diverse con il telefonino c'è la funzione riconoscimento del testo cioè io ora ho premuto un pulsante che non posso far vedere in questo momento io disegno col dito sul telefonino una S ora devo spostare quella cosa lì per disegnare la mia S e il il Jamboard riconosce che ho disegnato una S quindi ho fatto la S e lui la scrive come un carattere come un testo e per cui dopo posso andare a modificare ingrandirla rimpicciolirla e fare un po' fare un po' quello che vuole quello che vogliamo per cui ci stiamo trafficando un po' tutti su questa cosa allora volevo vedere Nicola Nicola andiamo a vedere se abbiamo condiviso le cose giuste Nicola io ho la tua email che è questa e a me sembra giusta perché altrimenti non me l'avrebbe non me l'avrebbe preso e quindi mi sembra tutto mi sembra tutto a posto Nicola poi chiaramente sono in diretta quindi magari qualcosa ho sbagliato ok Sergio dice e sì che il mio telefono è dei tempi antichi eppure funziona allora Sorcina con l'iPad dice non non vi trovo se stai cercando il Jamboard potrebbe essere che non ci sia per Apple perché è un mondo un po' un po' diverso da da Google e dai Windows non ho possibilità di verificare se non la trovi non semplicemente non si può fare perché non è compatibile mi sembrerebbe un po' strano però ci può stare allora Arancina dice io sono dentro la lavagna del telefonino ma non riesco a scrivere Arancina metteci sul dito e traffica cioè devi aver cliccato sulla nostra lavagna e poi provare a cliccarci sopra vabbè ragazzi la lasciamo qui aperta intanto la lavagna così potete lavorarci volendo si può fare pulizia c'è la gomma se io tengo premuto sulla gomma o prego su questa freccettina qui della gomma posso cancellare beh posso cancellare alcune cose ma posso anche volendo cancellare tutta la lavagna da qua ci sono un sacco di comandi e sono molto molto belli da da scoprire domani in conferenza magari con i ragazzi che ci sono in conferenza la proviamo tutti quanti così vediamo vediamo se ci piace ok qualche altra domanda intanto che avevamo che abbiamo un po' di tempo quindi magari se volete ci raccontiamo qualcosa io ho esaurito le domande che avevo che avevo da parte e adesso non sono più in grado nella chat senza fare pasticci che qua come tocco qualcosa disattivo un microfono una linea telefonica ok per cui direi di se vogliete riscrivere qualcosa in modo che che possa rispondervi io vedevo qualcosa prima allora Franca dice i fogli si cambiano e si salvano beh i fogli si possono girare da qua il salvare non lo so vediamo se sui tre pallini allora rinomina scarica come pdf salva come immagine rimuovi crea copia si può si può fare grazie Giovanna per per l'uso della super chat e per gli spunti che mi hai dato per questa serata grazie infinite grazie Icaro per l'uso della super chat grazie mille vi ricordo intanto che aspettiamo qualche domanda il pranzo siamo prossimi ormai mi avete sentito dirlo talmente tante volte perché abbiamo iniziato all'inizio dell'anno e finalmente siamo quasi siamo quasi pronti intanto io non sto non sto disegnando niente provate a fare un cerchio ragazzi quelli che stanno trafficando provate a fare un cerchio col cellulare è più facile che con il computer perché col computer bisogna saperlo fare mentre col cellulare io disegno così e lui fa il cerchio fa il quadrato eccetera allora vediamo cosa dice 100% Windows se io ho un hard disk da 200 gigabyte e faccio due partizioni da 100 gigabyte poi posso ritornare ai 200 gigabyte allora sì tanto bravo a 100% Windows che sta provando a disegnare il cerchio allora sì le partizioni non sono cose che non si possono che dalle quali non si può tornare indietro cioè tu lo puoi manipolare come vuoi tenendo conto che allora intanto se sono 200 giga difficilmente riuscirai ad avere 100 e 100 ci sarà dello scarto tecnico per cui non si potrà fare esattamente 100 100 98 98 insomma qualcosa del genere poi però quando ne hai due per modificare le dimensioni che so per farne una da 150 e l'altra da 50 ok tu puoi fare tutte queste cose purché ci sia la possibilità di farlo perché rischi comunque di perdere dei dati per cui le modifiche delle partizioni bisogna fare attenzioni a farle magari adesso andiamo a vedere questa cosa qui allora Flavio grazie per l'uso della super chat Arancina mi dispiace che tu non sia riuscita avremo altre occasioni magari per farlo Agnese dice sul cellulare il play store non lo trovo eppure c'è Agnese se ha un cellulare android ci deve essere da qualche parte per forza ciao Lince ciao Leonardo grazie per l'uso della super chat vediamo questa cosa delle partizioni vediamo MyTunerLog dice quindi bisogna formatare prima di ritornare a 200 gigabyte no allora vediamo questa cosa premetto che fare questa cosa sulle partizioni è abbastanza pericoloso per cui non mi vedete mai farlo o parlarne perché fare un danno da tecnico da dover portare il computer al tecnico o da cancellare le cose è un istante quindi si fanno solo in casi di emergenza o solo se so esattamente quello che faccio intanto ringrazio Franca per l'uso della super chat perché vedo che ha fatto la super chat e quindi ha risolto anche i suoi problemi oh che bello intanto vedo un po' di cerchi colorati allora voglio lavorare sulle partizioni vediamo un po' di capirci ora devo rimpicciolire quindi amici della lavagna voi potete cominciare a disegnare continuare a disegnarci sopra io devo rimpicciolire quindi la devo togliere alla vista al momento ma poi vedremo quello che c'è dentro quindi se volete trafficateci pure allora apro il mio esplora file per guardare la situazione del mio computer dei miei dischi ingrandisco ed eccomi qua allora io nel mio computer in questo momento vedo tre unità a disco un disco locale C che è quello che contiene Windows un archivio comune D praticamente vuoto e un'unità DVD il DVD ok non c'entra niente questi due dischi potrebbero essere un unico solo disco quindi fisicamente all'interno del computer un unico disco partizionato cioè separato in due fettine farsi fatto in modo che il computer ne riconosca due per questioni tecniche oppure potrebbero essere fisicamente due dischi diversi allora se fossero due dischi diversi sono due dischi a sé stanti e quindi lavorano separatamente ma se è uno solo io potrei gestire le dimensioni ora io so essere uno solo perché il mio computer le ho sistemati io così allora premetto che è utile avere un disco C molto grande perché quando il computer è pieno quando il disco C è pieno per i tre quarti il computer perde di prestazione quindi non fatevi un disco C troppo piccolo se fate le partizioni generalmente a me piace tenerne una sola quindi il disco C completo ci sono computer che hanno l'SSD quindi un disco di tecnologia nuova molto veloce che generalmente è più piccolo ed è il C perché serve così in modo che il computer sia più veloce perché Windows deve stare sul disco più veloce quindi è normale così e poi hanno un altro disco separato tecnologia tradizionale molto più capiente il mio computer che è vecchio non ha l'SSD quindi ha un unico disco di tecnologia vecchia l'ho diviso in due perché questo che io ho chiamato archivio comune lo utilizzo anche con Linux cioè Windows da una parte e Linux dall'altra si incontrano e possono scambiarsi informazioni sull'archivio comune poi è praticamente vuoto perché non lo uso non lo uso mai ok bene vediamo come si agisce su queste cose ci sono vari modi vado in Cortana e scrivo non mi ricordo più cosa scrivevamo se partizioni proviamo così eccolo qua ho scritto l'inizio di partizioni e è uscito il comando crea e formata partizioni del disco rigido attenzione che entrare qui se non si sa cosa si fa è quasi sicuro fare dei danni ok ci andiamo insieme io ci vado ma cercherò di non toccare niente per non fare pasticci ora attendiamo che il mio computer lo apra un po' perché è vecchio lui ma soprattutto perché sta facendo la diretta intanto vedo Arancina cosa dice su questa lavagna si può scrivere anche quando non si è tutti presenti assolutamente sì quindi è una lavagna che poi tutti possono usare è come la lavagna in cucina dove ci scrivi comprare le arance comprare la pasta eccetera e poi dopo ognuno quando passa di lì scrive un appunto per la famiglia solo che questa cosa ce l'hai sul telefonino e ormai tutti quanti condividiamo queste informazioni si possono lasciare messaggi e voi potete vederli in qualsiasi momento come un'agenda virtuale assolutamente sì per cui questa è un'ottima idea probabilmente passeremo ad una lavagna anche nel gruppo associazione maggiolino allora vediamo cosa dice MyTunerLock dice io da poco ho fatto mettere lsd al posto dell'hard disk ed il portatile è diventato molto reattivo infatti me lo dicono questa cosa qui ed è una cosa che dovrò fare allora mentre io chiacchieravo dicevo ma qua non arriva mai in realtà si è aperto questo comando ma sotto me ne accorgo perché qui vuol dire sotto dietro a questa finestra mi ne accorgo perché nella barra delle applicazioni è apparso e quindi lo vedo eccolo qua allora questa è la mia finestra di gestione disco prima di tutto come faccio a sapere che il disco il disco C e il disco D sono un unico disco fisico e non sono due perché sono nella stessa riga disco 0 questi sono i dischi fissi il disco 0 e il disco 1 rimovibile F che in questo momento non c'è perché è staccato e quindi non c'è quindi questo disco 0 è un unico disco e al suo interno contiene l'unità C e l'unità D se faccio pasticci qua Windows non parte più se faccio pasticci qua nel disco D quello che c'è dentro il disco D se ne va e quindi perdo il contenuto del disco D e quindi devo stare devo stare attento ora io potrei rimpicciolire il disco D o potrei cancellarlo facendo tasto destro in questa posizione io posso fare formatta che significa svuotarlo e quindi potrei vuotare tutto il contenuto ridurre il volume quindi dire questo volume viene visto come una cosa di capienza posso ridurlo stringo questo per poter allargare quell'altro e quindi se stringo questo e allargo l'altro il disco C diventa più grande e il disco D diventa più piccolo oppure posso eliminare il volume cancello completamente il disco D che se ne va e poi agendo sul disco C lo allargo a riempire tutto lo spazio che si è liberato e quindi non c'è più il D e c'è solo un C più largo per cui dopo aver lavorato qui non sono obbligato a formatare prima mi si chiedeva ma devo formatare no io posso anche non formatare quindi potrei ridurre il volume e quello che c'è dentro potrebbe salvarsi non è garantito potrebbe salvarsi ma non è garantito dipende da dove è scritto in teoria il computer non dovrebbe fare l'operazione se vede che cancella dei dati però se ci sono dati importanti questa roba qui bisogna avere salvato prima di fare operazioni quindi se io riduco il volume qui poi potrei andare sul disco C fare tasto destro e estendere il volume ora non posso estenderlo è spento questo comando qui perché semplicemente non c'è più spazio il disco è usato per intero questo 487 MB integro partizione di ripristino invece è la partizione che serve per ripristinare il mio computer per cui non posso utilizzarla il fatto che sia in mezzo mi potrebbe creare problemi nel senso che se io voglio ridurre questo e allargare l'altro questa qui in mezzo potrebbe impedirmi di farlo e quindi non è in una buona posizione in questo caso attenzione ad utilizzare queste cose io chiudo di fatto senza fare niente e se sbagliate qualcosa bisogna andare dal tecnico o bisogna essere in grado di ripristinare non dobbiamo mai in teoria andare dal tecnico a meno che non sia rotto fisicamente e anche lì valendoci si può arrangiare diciamo che il computer possiamo gestircelo da soli però dobbiamo sapere quello che si fa bene vediamo Alex cosa dice se ho bisogno di formattare il telefonino posso trasferire le foto e i file i foto file e messaggi whatsapp sul telefonino di mio figlio no Alex di solito funziona così whatsapp quindi tutta la chat di whatsapp può essere salvata facendo un backup c'è il video apposta che mostra questo ora ovviamente non ricordo il numero e quindi in pratica tutti quelli che utilizzano whatsapp hanno impostato un salvataggio automatico delle chat ad esempio a me tutti i giorni una volta al giorno di solito lo fa alle 2 di notte il mio telefono salva tutto sulla nuvola quindi all'esterno del telefonino se io l'ho formato lo ripristino alle impostazioni di fabbrica quando ricaricherò whatsapp whatsapp va sulla nuvola prende il salvataggio e me lo rimette nel telefonino per cui io ritrovo tutto allo stesso modo se cambio telefonino quando attivo il telefonino nuovo dalla nuvola viene scaricato il backup e ho tutto quanto per cui è molto molto covolo grazie Agnese grazie infinite per l'uso della super chat per noi è importantissima le foto ormai non si usano più sul telefonino non vanno più tenute sul telefonino si mandano su google photo sulla nuvola di google stesso discorso il nostro telefonino non è più un contenitore delle nostre informazioni ma quelle stanno sulla nuvola così che se lo rompo lo perdo eccetera mi prendo un altro lo attivo con la mia password col mio account quindi devo mettere il mio account questo e la mia password e il telefonino si riempie di tutto quello che avevo prima per cui non perdo niente è comodo tenere tutte queste cose anche sulla nuvola per il semplice fatto che i telefonini altrimenti non sono abbastanza capienti per tenere tutto quello che facciamo noi facciamo un sacco di foto anche solo quelle o riceviamo un sacco di messaggi whatsapp e dopo tre giorni è pieno per tanto capiente che lo si prenda e si riempie con poco quindi si butta tutto sulla nuvola e quindi lo usano tutti quanti così chi lo sa in definitiva però bisogna bisogna fare in questo modo allora Oscar mi dice è possibile disattivare Cortana sì anche se non so dirti esattamente come ma io direi sulla barra delle applicazioni tasto destro in un punto vuoto ammesso di trovarlo Cortana nascosta forse vediamo se la nascondo ecco che Cortana se n'è andata non credo che sia proprio possibile disattivarla però l'ho nascosta e ora me la vado a riprendere perché devo dire che nonostante fossi scettico all'inizio mi piace si può mostrare solo la casella quindi un bottone tondo da poter cliccare Vittorio dice sì è utile Cortana sì secondo me è molto utile bottone corto cliccabile e che si allunga quindi occupa meno spazio sulla barra oppure tasto destro Cortana mostra casella di ricerca a lungo forse è meglio corto ma va bene così Marcel dice se la nuvola sparisce perdiamo tutto sì ma è più facile che tu perdi il cellulare o che te lo rubino o che tu lo rompa prima che sparisca la nuvola perché hanno della tecnologia adeguata a salvarci le nostre cose per cui è come la banca uno dice porto tutti i soldi in banca e ma caspita se cade una bomba sulla banca perdo tutti i soldi e sì anche se in realtà ci sono assicurazioni che poi te le ridanno e la stessa cosa è per le foto cioè c'è una tecnologia tale che è molto 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 difficile che venga perso tutto mentre invece è molto 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 facile che noi le perdiamo dal nostro telefonino dal nostro computer o cose di questo genere e quindi fidiamoci so che all'inizio si fa un po' fatica ma in realtà è così addirittura all'inizio si dice sì ma se io ho cose molto molto personali le mando sulla nuvola chissà che le vede la nuvola è talmente vasta che se devo nascondere qualcosa è meglio nascondere sulla nuvola che non all'interno di telefonini o computer perché ve lo trovano ve lo trovano subito Google Drive e la nuvola è la stessa cosa sì e no cioè sì e no proprio andiamo a vedere allora vabbè apro una nuova scheda perché magari così teniamo la lavagna allora vado nei miei pallini nei miei applicazioni allora Google Drive è la nuvola di Google è lo spazio di 15 gigabyte quindi non è poco dove io posso salvare qualsiasi cosa qualsiasi mia informazione va a finire sul computer da qualche parte e può essere recuperata dal cellulare da un qualsiasi altro computer da un tablet e quindi è molto comodo per il fatto che la nuvola è inteso come ce l'ho sempre sopra la testa è come il cielo ogni dove vai guardi in su e lo trovi e allo stesso modo col cellulare basta che tu sia collegato a internet cellulare o computer ritrovi le tue informazioni e a me capita spesso mi scrivete un sacco a volte devo mandare file e cose varie se dovessi farlo solo quando sono davanti al computer quando sono davanti al computer poi non avrei tempo per lavorare mentre invece a volte sono in giro nei tempi morti faccio anche queste cose qui quindi Google Drive qualsiasi tipo di file Google Foto nuvola per le foto la nuvola Google Foto è a capienza illimitata quindi io posso continuare a mandare foto illimitatamente ok illimitatamente quindi non si riempie mai per cui le foto le mando su Google Foto tutto il resto lo mando su Google Drive quando mi serve foto e video su Google Foto sono le cose che pesano di più ma noi le possiamo mettere lì e non occupano spazio per noi occupano spazio per loro che le devono conservare ma per noi no e poi ho 15 giga di spazio libero sulla nuvola per archiviare delle cose e devo dire che lo uso lo uso io sono stato uno molto restio sono sempre restio alle novità ma invece è fantastico grazie infinite a mio cugino per l'uso della super chat grazie mille oh vediamo Gandalf il grigio dice nuvola sicura dice ma no se se qualche malintenzionato le sottrae e le diffonde è lo stesso discorso se qualche malintenzionato prende il tuo telefonino un tuo compagno di classe un tuo collega di lavoro che ti fa le stesse cose non c'è la garanzia assoluta è più sicuro là dove noi non conosciamo chi c'è e chi ci lavora dove abbiamo a che fare solo con computer e persone per noi sconosciute che non che non nei nostri dispositivi in casa nostra in famiglia e le persone che abbiamo attorno ricordatevi che se qualcuno comunque li prende di mira perché vuole fare qualcosa e non ci si scappa del resto vengono a rubare anche in casa se vogliono entrare in casa tua guardano quando vai via e a un certo punto entrano puoi mettere tutte le serature che vuoi ma sappiamo che non bastano per cui per cui è così il discorso quindi ognuno si deve si deve regolare un po' come vuole e io non dico che bisogna dare fiducia al 100% ma uno può dire certe cose posso anche non tenerle sul telefonino o posso anche posso anche mandarle sulla nuvola certe cose non sono così personali che posso archiviarle là e quindi ci siamo già col discorso vediamo Antonio dice se creo un nuovo account o un nuovo spazio su Google Drive assolutamente sì ogni account 15 giga di spazio allora Sorcina dice lavagna trovata inseriscini se vuoi vediamo proviamo aspettate a scrivere che devo fare in tempo a inserire a inserire lei altrimenti non facciamo mica in tempo a vederlo allora lo scrivo anche tu in modifica e ci siamo inviato per cui dovresti presto essere insieme a noi notate che qui è rimasto solo 100% Windows perché gli altri si sono disconnessi nel frattempo per cui al momento la lavagna è solo con noi facciamo un po' di pulizia vabbè ci sono anche altre pagine mi dispiace cancellare cose che magari avete scritto e disegnato voi allora la linea va e viene continuamente può succedere ci vuole una buona linea per trasmettere io fortunatamente adesso ce l'ho col telefonino ma ci vuole anche una buona linea per ricevere poi dipende un po' anche dal computer che con tutte queste cose mio fa un po' fatica Elena dice ma quando le foto sono già sulla nuvola si possono eliminare dalla galleria senza che vengano eliminate assolutamente sì se tu apri il google foto del tuo telefonino e ora non posso mostrarlo perché stemmo sempre di fare disastri con la linea telefonica perché sapete che il mio telefonino sta trasmettendo la diretta è lui che la trasmette dicevo quando io apro google foto nel mio telefonino che è l'applicazione che serve a farmi vedere le foto che ci sono sulla nuvola sulle tre righine tocco le tre righine e poi c'è la funzione libera spazio lui confronta le foto che ci sono in galleria con quelle che ci sono sulla nuvola quelle della galleria presenti sulla nuvola vengono eliminate e tu recuperi un sacco di spazio sul tuo telefonino per cui assolutamente è una cosa da fare provo a girare qualche pagina vediamo se è stato scritto qualcosa d'altro in altre pagine tutti stiamo provando a inserirle questa qui blu qual'era qua la nostra va bene io ho girato foglio vedo che state trafficando per cui provate vittorio inseriscimi nella lavagna allora facciamo che ore sono ok la lavagna rimarrà attiva anche dopo per qualche tempo ovviamente bisognerà essere stati inseriti per poterci scrivere sopra davidino dice cortana si può disattivare cercate di disattivare cortana grazie davidino andiamo subito a vedere allora disattivare cortana ah però vabbè non è una opzione così così veloce ne parleremo magari in un video allora su come disattivare cortana devo dire che però a me piace anche se inizialmente non pensavo invece invece mi piace quindi penso che me la terrò però proveremo allora Oscar si può mettere una copia di Windows sul disco D? no non c'è non c'è modo c'è una qualche funzione del Windows Enterprise quindi versione Enterprise se non mi sbaglio che ha la portabilità quindi la possibilità di essere messo su un altro disco su una chiavetta per così da poterlo infilare in un computer ed avere Windows in quella in quella maniera lì ma non l'ho mai non l'ho mai provato per il resto tutte le copie che tu potessi fare su un altro disco non funzionano se non è sul sul C allora vediamo un po' ciao Daniele ho cambiato account per problemi sono 100% Windows ah ok ciao bene bene arrivato bene arrivato bene sempre qua allora ragazzi direi che ci siamo per questa sera è stato un piacere come sempre avervi qua in compagnia con me tutti quanti insieme è stato bello scrivere anche sulla lavagna insieme ah intanto vedo il ciao ciao Sorcina belli questi messaggi qua ok ragazzi vi ringrazio ci vediamo in diretta martedì prossimo e tutti i giorni ormai sapete che c'è qualcosa sul canale per cui venite a trovarmi domani sera la conferenza per gli amici che vogliono partecipare vi aspetto ciao a tutti